Il resto della settimana è andata molto molto bene quindi la squadra ha lavorato, ha lavorato bene, ha lavorato tanto è conscia dell'importanza della partita perché continuare con questo ritmo non è facile ma è altamente stimolante quindi vogliamo provare a dare continuità a questi risultati nonostante appunto di fronte avremo una squadra arrabbiata che vorrà dare una svolta alla propria stagione o comunque svoltare in senso positivo anche perché comunque le aspettative credo fossero diverse e le potenzialità comunque le permettono di essere una squadra che venga da tutti denominata come una squadra importante. Diciamo che ci sono molte similitudini con la trasferta di Castellamare di Stabbia nel senso che incontriamo una squadra che non sta attraversando sicuramente un momento brillante sotto l'aspetto dei risultati e ha voglia in casa propria di come dicevo prima incominciare o riprendere un discorso perché all'inizio è partita molto bene la Touris nelle prime giornate di campionato e poi si è un po' smarrita a livello di risultati poi ci sono stati dei cambi della guida tecnica però come dicevo è una squadra che ha del grande potenziale soprattutto là davanti chiaro che Giannone tra l'altro ho allenato in tre stagioni una alla Propatria e due a Reggio Emilia è un giocatore fondamentale per loro rientra ora diciamo che è rientrato domenica scorsa dopo un infortunio e quindi mi aspetto che possa anche partire dall'inizio e lì davanti hanno un reparto di tutto rispetto da Maniero a Santaniello a Leonetti quindi l'anno scorso forse è stata la squadra che fino a un certo punto del campionato ha espresso un grandissimo calcio forse il migliore di tutta la Serie C nel girone C almeno per quanto possiamo posso dire e quest'anno magari qualche problemino non so io quali possano essere ma sicuramente ad oggi cercano questa svolta quindi dovremo avere una grande attenzione una grande applicazione in un ambiente che sarà caldo e che cercherà di dare tutto il supporto alla propria squadra e ai propri colori diciamo che numericamente e statisticamente sono aspetti importanti quelle delle palle da fermo sia contro che a favore hanno struttura in alcuni giocatori credo che Maniero poi nel gioco aereo sia uno tra i più validi in tutta la categoria e quindi dovremo metterci grandissima attenzione e poi comunque abbiamo anche noi le nostre armi le nostre risorse in quelle a favore però il campo sì abbiamo visto che quanto possa incidere ma fortunatamente abbiamo sempre trovato delle buone prestazioni su campi in sintetico quindi la voglia è quella di soprattutto di presentarci con il piglio giusto il piglio di una squadra che come sempre diciamo deve essere conscia delle proprie qualità ma al contempo essere rispettosa delle qualità degli avversari perché è chiaro che i dati parlano chiaro di una squadra che fa tanti gol ne subisce tanti e allora probabilmente nell'equilibrio risiede la chiave della partita e nelle transizioni da non subire e da poter mettere in campo a nostro favore è chiaro che ogni partita ha come diciamo sempre ha una storia a sé e allora dobbiamo essere bravi a far sì che questi numeri poi allora riparlino nuovamente in quel senso però per farlo è chiaro che dobbiamo fare una grande prestazione di sostanza molto attenta in ogni circostanza soprattutto credo che nella fase difensiva vada fatta e prestata grande attenzione e quando parlo di fase difensiva non parlo esclusivamente della linea difensiva anzi io mi riferisco all'aspetto globale della squadra che debba difendere in un determinato modo perché poi probabilmente se lo dovessimo fare con un'alta qualità allora poi potremmo avere dei giovamenti nelle transizioni o nella fase offensiva è chiaro che io come ho detto spesso al di là dell'importanza dei vari giocatori poi io devo vedere al momento facendo una fotografia attuale della situazione chi sta meglio e chi sta peggio e in base a questo poi cercherò di scegliere per il meglio e per il bene della squadra ma se dovessi fare delle scelte comunque le devo fare chiaramente è il mio compito ma sappiamo che poi se presa nel verso giusto da parte di chi non sarà chiamato in causa inizialmente potrà darci una grande mano anzi abbiamo visto quanto magari domenica scorsa o le altre domeniche possano fare la differenza a chi entra in termini di quanto dà come apporto alla squadra poi come ho detto non sempre si riesce a darlo ma è chiaro che nella partita ci sono più partite e spesso la vincono soprattutto o ti aiutano a soffrire meno chi subentra dalla panchina ma lì è un altro è chiaro che se De Zogus non dovesse esserci o comunque anche se dovesse esserci ha saltato buona parte della settimana per come sono abituato io a scegliere difficilmente può partire dall'inizio e lì si apre un ballottaggio anche con lo stesso Tutta che comunque ieri ha fatto una buona partita al di là delle reti che contano secondo me fino ad un certo punto ma sapendo che nelle prestazioni precedenti magari da esterno non ha particolarmente brillato per caratteristiche però magari per spirito di rivalsa o carattere può darci una mano quindi sicuramente abbiamo ancora un giorno ci prendiamo questo giorno per decidere però è chiaro che noi non vogliamo perdere l'identità al di là di quello che possa essere la scelta e su questo credo che sia molto più probabile uno fra colai e delle monache l'escano da qualche settimana si allena con dei fastidi alla parte del pube quindi una leggera infiammazione sta stringendo i denti probabilmente è stato anche penalizzato da questa sua condizione anche ieri ma lui sta stringendo i denti perché vuole esserci però a livello di condizione è chiaro che non è il lescano di 15-20 giorni fa ecco perché allora io devo tenerne in considerazione pur sapendo quanto ha dato alla squadra però a oggi poi io devo fare delle scelte su chi sta meglio fisicamente quindi non è un discorso di demerito eccetera era semplicemente questo lui non è calato a livello psicologico probabilmente sta patendo questo fastidio ma reagendo perché vuole esserci e vuole dare il proprio apporto poi le scelte aspettano me con le considerazioni fatte in precedenza diciamo che è un momento in cui ci dirà quello che sarà il girone di ritorno perché se dovessimo riuscire comunque a rimanere in scia della prima e comunque del crotone ad essere a pochi punti di distacco sopra sotto quello conta relativamente ma essere lì con loro poi guardare sicuramente al girone di ritorno con un occhio diverso qualora ti staccassi un pochettino non cambiano le cose ma sicuramente il tuo è un percorso non dico che cambierà ma avrà un obiettivo di recuperare dei punti e quindi magari in certi frangenti potrai fare delle scelte un po' più forzate per cercare di vincere le partite a volte invece puoi gestire in modo differente la partita singola ecco questo grazie a tutti grazie a tutti